Oggi è sabato 27 aprile 2024, mi trovo al mio orto e voglio seminare la prima orte che la faccio. La patata rosa, sì, nei petti come ben vedete, questa è quella pucenza e questa è quella rosa, la scoppa tagliata alla metà, questa è quella bianca, la stessa varietà, la parte non tagliata, come si dice la scoppa e pure questo, vedete la differenza? Vabbè, comunque queste sono semi piccoli perché c'è anche quella più grande che poi finisce pure come questa qui. Guardate un po' che bel colorito che c'è, vedete? Sicuramente questa ha altre proprietà, ogni patata, a seconda il colore, a seconda la qualità, ha delle sue caratteristiche salutari. Bene, il terreno è quello qui, ho preparato gli attrezzi per seminare, la zappa, il rastrello e questa è una riga, sì, ma io non è che devo seminare molto, io metto poco, un paio di metri di roba così, per la prima orte, più per curiosità. Intanto devo fare pure un'altra cosa, devo spianare qui questo terreno, questo qua.